Daniel Rosetta Merato, Terezzi Simone Spidirolla, De Nicola Lorenzo Benusco, Savanti Federico Padernese, Marinussi Paolo Schettin Club Cassano, Codara Daniele Padernese, Guido Ivan Concorezzo e Villa Leonardo Eticappa Schettin di Cinisello. Al passaggio erano tre giri da percorrere, sono quasi due e mezzo ancora. Stai giù Lorenzo, stai giù e battila bene. Vai, dai Daniele, dai Fede. La perrota del Terezzi Simone, dello Spidirolla, era passare per primo il passaggio dei meno due al termine. E' seguito comunque da altri tre atleti, Rosetta Bellusco e Padernese. Dovrebbero essere Daniel Vignazza e Lorenzo De Nicola. A fare che sia anche un atleta della Rosetta Morato, esatto. E' un po' a te che sfida in questo momento, a parte gli altri due citati. E' l'atleta della Padernese che prende testa, prende campo, prende spazio davanti all'atleta del Spidiroller. Spidiroller. Si è tirata a guardare. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. E' appena arrivo l'atleta 59. Ma tu Lorenzo, è Lorenzo che ha fatto un traguardo seguito dagli altri atleti.